Accoglienza, profughi di guerra accassibile, comitato No Villaggio, non accettiamo critiche disinformate. Vorrei spendere due parole che, anche se dovrebbero essere superflui, sono necessarie in difesa della verità. Esadisce così Paolo Romano, già consigliere del Comune di Siracusa. Parlo a nome del comitato No Villaggio, prosegue Romano, che negli scorsi mesi ha fortemente protestato sulla scelta dell'amministrazione siracusana sulla edificazione del villaggio per lavoratori extracomunitari stagionali incontrata palazzo accassibile. Proteste spinte dalla voce di centinaia di cittadini residenti che denunciavano le irregolarità dei lavori, gli evidenti conflitti di interesse tra persone e società coinvolte, l'ubicazione del villaggio in una zona già fortemente penalizzata in quanto priva dei servizi come strade e luci e che offrivano soluzioni alternative più efficienti e a costo zero per la spesa pubblica. I dati sono tutti pubblici e consultabili. Il tutto è stato sempre fatto a tutela dei lavoratori extracomunitari stagionali che a nostro avviso e con prove evidenti venivano sfruttati come mezzo di sporco business da persone e società che c'erano dietro maschere di filantropismo, interessi puramente economici. Nonostante questo, continua Romano, in quel periodo non sono mancate accuse pesanti come quelle di razzismo, cosa alquanto grave se rivolte a chi denuncia che il razzismo lo fa davvero, ma dietro le quinte. Ovviamente questo non ci ha affermati e consapevole delle cose giuste abbiamo portato avanti le volontà dei cittadini e denunciato l'ingiustizia sugli extracomunitari con le proteste. Detto questo, essendo Cassibile una società storicamente aperta all'accoglienza, la popolazione extracomunitare è regolarmente residente da decenni a Cassibile nella prova, il Comitato dei cittadini in un villaggio ha proposto la disponibilità per i profughi di guerra in vista delle iniziative nazionali e regionali di accoglienza nel villaggio per lavoratori extracomunitari stagionali nato lo scorso anno, che è ormai semivuoto e in disuso e dove, nonostante questo, i costi di gestione a spese dei cittadini restano elevati. Un fatto per noi nobile, dichiara Romano, ma che anche oggi è oggetto di discussione e di attacchi. È chiaro che scelte proposte non possono essere da tutti condivise, la libertà di pensiero è la base del nostro operato, per cui la critica è sempre ben accetta, ma se questa si basa su prese di posizione e di etichette dateci da chi non ci conosce, da chi è poco informato, da chi semplicemente ha il piacere di andarci contro, lasciano il tempo che trovano. Nell'era moderna informarsi è un dovere e rimanere ignoranti è una scelta, senza sapere non ci si può creare un'opinione. Riflettete, conclude l'ex consigliere.